Sono Alberto Bergio, presidente della cooperativa sociale La Cascina e responsabile dell'omonimo centro diurno. La realtà della Cascina fonda le sue radici nel 1977, quando per la prima volta sul territorio vengono inserite delle persone con disabilità nelle state ragazzi. Da questa esperienza favorirà un processo di sensibilizzazione, di riconoscimento di una necessità di allargare l'opportunità alle persone con difficoltà di partecipare attivamente alla vita quotidiana. Nel 1983, proprio in relazione alle esperienze in divenire di questi anni, verrà attivato un percorso, un vecchio cascinale di proprietà dell'ASL, dove saranno svolte delle attività lavorative, tutte su base di volontariato. Solo successivamente verrà riconosciuto dai servizi pubblici la possibilità di trasformarsi a tutti gli effetti di un centro diurno. Nel 1992 verrà costituita la cooperativa sociale. Immediatamente avevamo pensato che il lavoro poteva essere uno dei canali importantissimi per includere le persone, perché permettono le persone di costruirsi un'identità e soprattutto essere riconosciuti nella loro dignità. Il lavoro non solo permette di costruirsi competenze e processi anche di autodeterminazione, ma favorisce anche la capacità di stare nel tempo e scandire il tempo della giornata e del proprio percorso di vita. Tutti lunedì mattina si va ad acquistare le derrate presso il supermercato, poi durante la settimana, intorno alle 11, si inizia a cucinare per il centro. Partecipano sempre persone differenti ed è un laboratorio importantissimo perché si acquisisce la competenza di costruire dei setting lavorativi, quella di occuparsi indirettamente anche delle altre persone preparando un buon pasto e soprattutto diviene anche uno spazio di relazione, apprendimento finalizzato poi, come abbiamo già anticipato, a una vita in autonomia. Questo spazio, che è il nostro refettorio, è anche ricovero durante il periodo invernale per mangiare, ma è anche possibilità di spazio multifunzionale, non solo per noi, ma anche per le persone del territorio. Giornalmente svolgiamo le attività di pulizia. Tutte le persone che lavorano in cascina se ne occupano perché riteniamo che è importantissimo che le persone si prendano cura del proprio spazio di vita e soprattutto che attraverso il proprio lavoro creino degli ambienti accoglienti per le altre persone. Diciamo all'interno dell'ufficio infermeria, c'è Simona che si occupa della parte amministrativa e Carlo che è il nostro medico che ci aiuta in tutta la parte sanitaria, che è quella della compilazione delle cartelle cliniche, quella della preparazione dei farmaci e soprattutto anche nella relazione con gli studi specialistici, le famiglie, grazie proprio alla sua competenza possiamo garantire ottima attività anche in relazione a tutto l'aspetto di cura alla persona. Questo è il nostro spazio dedicato alla progettazione e alle attività educative. Nelle attività educative partecipano anche dei volontari e si fanno delle attività con la Lime e sono indispensabili per mantenere le competenze presenti e svilupparne nuove. È anche uno spazio di progettazione, di progetti educativi, progetti di vita che consentono di attivare dei percorsi virtuosi e organizzati, orientati al fine di migliorare la qualità di vita di ognuno. Questo è il laboratorio di ricamificio, collaboriamo con delle aziende esterne che ci portano il materiale da lavorare, le maglie o pantaloni, i cappellini vengono divisi in relazione a colori, taglie e si farà la lavorazione prima al computer per la costruzione del logo che verrà trasferito sul macchinario e verrà ricamato l'indumento. Questo è uno spazio lavorativo dove svolgiamo diverse attività. Da questo lato svolgiamo attività lavorative per un'azienda che si occupa di agricoltura. produciamo gli eco-candy che sono caramelle ecologiche che vengono utilizzate per distruggere o prevenire la formazione di alghe. In questo spazio specifico etichettiamo del compost ma non solo perché in altre aree svolgiamo ancora attività di preparazione di prodotti da abbinare ai fitofarmaci. Sul lato sinistro invece svolgiamo attività di raccolta e divisione carta. Un paio di volte a settimana andiamo sul territorio col furgoncino quindi ci permette di restare costantemente in relazione con la società e svolgere un ruolo importante che è quello di tutela all'ambiente proprio attraverso questo processo di riciclo. Pertanto la carta viene portata qua all'interno di questo spazio, viene suddivisa in relazione alle sue caratteristiche per poi essere riciclata all'interno di industrie specifiche. Tra le tante attività che facciamo ci occupiamo anche di tutta la parte esterna che è di giardinaggio non solo nel taglio dell'erba ma anche nell'innaffiare le varie piante e i fiori. Delle attività manutentive interne ce ne occupiamo anche noi nei limiti delle nostre capacità però quello che riusciamo lo facciamo. Questa è la nostra cartolibreria in centro San Rocco ma non è solo cartolibreria perché anche il nostro sportello pubblico. Ci occupiamo di vendita di testi scolastici, di prodotti relativi a tutto quanto concerne la cartotecnica e siamo anche il service point della DHL e offriamo tanti diversificati servizi. È oltresì un punto importantissimo perché partecipano all'attività tutte le persone inserite presso il centro diurno quindi diventa uno spazio di relazione, di opportunità affinché il territorio possa riconoscere le capacità e le competenze di ognuno. Non svolgiamo solo attività lavorative ma svolgiamo anche attività motorie che sono assolutamente indispensabili e funzionali per mantenere buono stato di salute. Tutti i mercoledì andiamo a camminare, si fanno percorsi differenti e i percorsi prevalentemente montani sono organizzati e strutturati in rispondenza alle capacità di ognuno. Altre attività svolte sono le attività di cura alla persona quindi tutto quello che concerne la cura nell'abbigliamento e la cura nell'igiene personale. Da quest'anno la cascina è anche spazio logistico per la manifestazione della Gran Fondo della Fausto Coppi e abbiamo collaborato attivamente nella preparazione sia qua in sede che durante tutta la manifestazione. Non solo attività motorie e attività lavorative ma anche attività più ludiche di animazione essendo numerosi quasi settemoralmente festeggiamo un compleanno. Durante l'anno facciamo delle uscite di esplorazione del territorio, una o due volte all'anno facciamo dei soggiorni. Siamo stati in diverse regioni in Italia, anche in Sicilia, quindi è stata l'opportunità per alcune persone che non avevano mai volato di prendere l'aereo in Puglia, in Slovenia. Nel tempo ci siamo anche sperimentati nell'attività di shatsu, yoga. A breve inizieremo un ciclo di meditazione, tutte attività che ci consentono di ampliare le nostre esperienze e definirci nella nostra identità.